La rabbia di Antonella Fiordelisi, Edoardo rompere, vattene dai tuoi amici. Nervi tesi nella casa del grande fratello Vip. Antonella Fiordelisi è di nuovo batti beccato con Edoardo Donnamaria. Tutto ha avuto inizio da uno sfogo della geffina, che riferendosi ad alcuni concorrenti delle reality tra cui Tavassi e Nicolin Corvaia. Ha spiegato, non voglio più vedere queste persone nella mia vita te lo giuro. Sono lontani dal mio modo di essere. Di fare da tutto ciò che per me è positivo. Donnamaria ha replicato con un esausto, basta. Antonella, non sentendosi appoggiata, si è arrabbiata. Antonella Fiordelisi ha replicato al suo fidanzato con una certa insofferenza per la mancata solidarietà nei suoi confronti, basta il cavolo. Ma ti rendi conto delle frecciatine che mi manda Nicolo o non te ne rendi conto? O fai finta di niente solo perché è fidanzata con Tavassi e la reputi tua amica? Fammi capire. Io le faccio queste battutine. Ma non mi rompere. Vattene, vai dai tuoi amici. Così, si è alzata dal divano dove, fino a pochi minuti prima, lei e Edoardo si stavano coccolando. Edoardo Donnamaria ha replicato stizzito, ma ti rendi conto che stamattina, ogni mezz'ora, ti stai alzando e stai andando dall'altra parte della casa, sbroccando da sola? Stoli tranquillo con te mi devi parlare di Micol. Ma parla da sola. Ma Antonella ha ribadito di ricevere costantemente le frecciatine sottili dei suoi nemici. che hanno l'unico scopo di provocarla. Poco dopo, però, i due hanno avuto un chiarimento Edoardo Donnamaria ha spiegato. Si poate-ti dau totul peste cap, ca poate fac doar lucruri care-mi plac. Poate nu ma-mbrac la costum, poate nu-mi spun minciuni, sunt liber sa fiu stapan pe ce fac si ce spun. Stii, nimic nu mai e la fel, copilaria s-a maturizat sever. S-a lovit pana acum de fel, de fel, de oameni de pareri, anti pur de caracter. Si vad cum unii stau degeaba, frate, sunt multi, dar... S-a lovit pana acum di fel, copilaria sottili dei suoi nemici.